Eccomi, ciao. Ciao. Ho fatto un po' tardi. Andiamo. Ecco, ce l'abbiamo fatta questa volta. Attenzione, attenzione prego. Il treno per Miami Beach è in partenza. Ultima chiamata. Apprettata. Aspetti, l'aiuto io. Prendi i bagagli. Grazie, sono molto grata. Grazie ancora, signore. Ci riesce? Sì. Grazie. È davvero gentile. Se non mi avesse aiutato lei, non credo che ce l'avrei fatta. Non ci riesce? Vuole che le dia una mano? No. Ti diverti, eh? Sei proprio un bravo bambino. Grazie, mamma mia. È stato meraviglioso. Grazie tanto. Ma prego, lasci con me a me. Vorrei poter farlo andare a me. E' stato di grande aiuto. Ma vai, posso farlo io? Lo lasci, lo lasci pure. Grazie ancora. No, 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 no. È successo qualcosa? Signore? No, 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 no... Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Porra, capitano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh mio Dio, sono dipendenti scontenti delle porte. Un momento, ridommi il mio bambino!